Quanto sei social, il tuo rapporto con Facebook, Twitter, sei una che twitta tanto? Più che Twitter uso molto ad esempio Instagram e Facebook, mi piacciono abbastanza. Mio papà non è molto d'accordo perché dice che butto via il tempo e un po' ha ragione. Qualche hobby particolare? Videogiochi, bicicletta? Per quello no, mi piace molto guardare i film, devo essere sincera, oppure leggere libri che parlano di psicologia della mente, come sfruttare al meglio le proprie potenzialità. Quello è l'unica cosa che magari faccio e mi piace tanto andare al mare. Quindi serie tv preferita The Mentalist? No, no, grazie che me l'hai detto, però non conoscevo. No, mi piace guardare i real time, malattie imbarazzanti, tutte queste cose qua. Senti, a proposito di real time, ma la cucina? Che posto occupa nella tua vita? Ti piace mangiare e ti piace cucinare? Mi piace mangiare. Mi piace mangiare perché non ho pazienza quando vado a realizzare le cose, appunto. Infatti, forse per me mangiare sempre un po' di carne e la pasta, cioè, veramente, sono un po', ecco, in cucina pecco molto. Ecco, come prepari una partita anche dal punto di vista alimentare? Ci sono dei cibi che prediligi o che magari devi mangiare prima di una partita? Diciamo che sono molto al mio rituale, ecco, prima della partita mangio sempre pasta in bianco integrale, petto di pollo, una banana, poi a merenda un toast e un succo o qualcosa del genere. Quindi quello sì, prima della partita sì, questo è l'unico rituale che ho, diciamo così. Allora, a questo punto, piatto preferito, visto che mi hai detto che ti piace mangiare, e attore preferito, visto che mi hai detto che ti piace molto guardare i film? Allora, dunque, ti direi, piatto preferito, mi piace un sacco il risotto alla milanese, oppure quando vado a Rose House prendo spesso le ribs che sarebbero le costine. E qui devo fare un commento, spettacolo! Per quanto riguarda un attore preferito, diciamo che non ho un attore ma i film, il tipo di film che può essere, mi piace molto quelli di fantascienza, di avventura, però diciamo mi accontento abbastanza nel senso che non sono una, è difficile che a me non piaccia un film. La musica invece ti piace? Che tipo di musica preferisci? E se ti carica, magari prima di una partita, che parte occupa nella tua giornata? Allora, durante la giornata non ne ascolto molta. Quello che facevo, che faccio qualche volta, magari mi sveglio, accendo la radio, quello mi mette subito di buon umore. E quello che faccio prima della partita, sì, la musica c'è nello spogliatoio appunto, però mi piace la musica hip hop e commerciale. L'avversaria invece che ti dà più carica, quella che ti piace di più affrontare, perché capisci che è quella forse che ti fa rendere anche al meglio. Mi sono sempre piaciute e sono cresciuta, diciamo, dovendo combattere per qualcosa sempre di importante. Quindi mi piace molto appunto le partite delle finali, no? Quelle mi danno quel qualcosa in più che, oppure quando c'era il derby con Villa Cortese, mi ricordo che dal punto di vista mentale non ho mai sbagliato un approccio a quella partita. Sono quella magia, tra virgolette, in più che ti viene. Invece per quanto riguarda l'argomento nazionale. La nazionale è ovviamente, credo, l'obiettivo di ogni giocatrice. Per te che posto occupa e in chiave azzurra cosa ti prefiggi? Io credo che la cosa, che per ogni atleta è la cosa più bella, il sogno è l'Olimpiade, no? E credo sia il massimo. Io, siccome sono un po' cresciuta con quella maglia addosso, e mi è dispiaciuto in questi anni, purtroppo ho avuto un brutto infortunio. Quell'anno fu selezionata, c'era Marco Mencarelli come coach, non sono potuta andare. L'anno dopo è stata una scelta di Bonitta e quindi di non portarmi. Quest'anno ho avuto l'occasione di porterla a rindossare e è sempre una magia. Quello che io cerco di fare sempre il mio lavoro al massimo, perché purtroppo, tra virgolette, ci sto troppo male se qualche convocazione non viene fatta. Quindi diciamo che non mi pongo di dire, appunto, quest'estate ho la nazionale e tutto. Cerco che tutte le cose, se devono venire, vengono da sole vedendo quello che faccio in campo. Io lo spero sempre, poi però non spetta a me decidere. Noi te lo auguriamo, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e ti ringraziamo. Grazie a voi e che crepi. Ciao a tutti. Grazie a tutti.